Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al recovery plan con l'astenzione delle ministri d'Italia Viva, Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, che ora, a meno di clamorosi colpi di scena, lasceranno i loro posti al governo. La seduta terminata a luna di notte non è stata priva di tensioni. Le ministri d'Italia Viva hanno ammesso che sul piano sono stati fatti passi in avanti, ma rimangono troppe le criticità, in un testo giudicato in drammatico ritardo sulle urgenze del paese. Italia Viva è anche tornata a chiedere l'attivazione del mess sanitario, su cui il premier Giuseppe Conte ha detto ancora no, con toni estremamente duri. A questo punto la strada della rottura tra Renzi e Conte sembra segnata. Il senatore Fiorentino, intervenuto a carta bianca mentre era in corso la seduta, è stato chiaro. Le decisioni saranno annunciate in giornata, ma ha aggiunto chiaramente che considera finita l'esperienza in maggioranza del suo partito. Dal Quirinale intanto si osserva con attenzione e preoccupazione per una crisi in piena emergenza Covid. Certo è, si fa notare che se Conte avesse una nuova maggioranza, il Presidente della Repubblica non potrebbe che prenderne atto.